Primo marzo 2017 inizia il cammino di Quaresima, un percorso questo che conduce al giorno della Pasqua del di Risorto, il periodo più forte e più importante per i fedeli alla sequela del Cristo. La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura, la vittoria sulla morte, così il Santo Papa Francesco. La Quaresima è un pellegrinaggio con Gesù verso Gerusalemme dove gli dona tutto se stesso, giustificandoci presso il Padre, il contenuto del messaggio di Sua Eccellenza, Monsignor Giovambattista Picchieri, Arcivescovo della Diogesi di Trani, Barletta, Bisceglie. Intraprendere così un cammino di conversione conformandoci agli insegnamenti del Cristo e lasciandosi possedere dallo Spirito Santo. Insomma, un gesto quello dell'imposizione delle ceneri che per i cristiani rappresenta il volersi spogliare del sé, riappropriandosi dell'identità più profonda, quella di figli di Dio. Insegnamenti cristiani che anche in questo 2017, al di là del credo che si professa, insegnano ad essere uomo e donna, che rispettano, che amano, che si donano perdonando, morire all'io per far trionfare Dio. Questo è il vero significato del cammino di Quaresima, un pellegrinaggio che si fa a comunione. L'Arcivescovo Monsignor Giovambattista Picchieri, di fatti, comunica la sua presenza, quale pastore, in ogni città dell'Arci di Ocesi, per celebrare la stazione quaresimale con la Santa Messa. Durante la prima settimana di Quaresima visiterà le comunità di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, a seguire quelle di Bisceglie, mentre nella terza settimana sarà curato e dal 27 marzo al 1 aprile invece a Barletta, nella quinta settimana presso le comunità di Trani. Un percorso quello che si apre con il mercoledì delle Ceneri di grandi grazie per una Quaresima che sia di profonda fede e carità. Con il rito delle Sacre Ceneri nel giorno del mercoledì comincia il tempo della Quaresima, un tempo favorevole di conversione e di rinnovamento interiore, spirituale, per prepararsi alla Pasqua a vivere questo grande evento della fede che è la risurrezione di Gesù. Quindi col simbolo delle Ceneri si vuole richiamare tutto ciò che incenerisce la vita, il peccato, l'egoismo, la solitudine, la tristezza. Con questo giorno noi vogliamo incenerire il peccato, soffiare un po' su e riscoprire il fuoco che c'è sotto, che è l'autenticità di una vita trasformata e illuminata da Cristo e dai valori della religione cattolica. In stretta continuità con il Vangelo e con il monito di Papa Francesco, l'invito ad uscire dalle chiese, noi siamo qui questa mattina al Settimo Circolo Giovanni Paolo II perché la parrocchia di San Giovanni non vuole restare chiusa tra le sue mura, intrappolata, ma uscire nelle scuole e anche qui all'asilo, nella scuola materna, per permettere anche ai bambini di iniziare la quaresima.